Si è parlato prima di secondo pilastro integrativo sostitutivo, volevo chiedere al professor Paolo Garonna, direttore generale Aniano, già gli incentivi per il secondo pilastro previdenziale, pur essendo abbastanza generosi, anche se Alberto è contrario su alcuni dettagli, non hanno dimostrato di essere così un volano sufficiente per convincere le persone a investire nella prevenzione integrativa, perché probabilmente non c'è effettivamente la consapevolezza che lo Stato non solo sulla pensione pubblica ma soprattutto si sta ritirando e perciò i rischi sono grossi non solo per i giovani ma anche per chi è già a metà del quadro. Che cosa si può ipotizzare? Quali potrebbero essere secondo lei delle linee di azione per stimolare la nastra di questo secondo pilastro anche sanitario che deve prendere sicuramente molto più spazio di quello che è attualmente? Gli incentivi non sono affatto troppo generosi, io credo che sul piano degli incentivi ci sia ancora molto da fare. Certo i problemi della sostenibilità ci rendono molto cauti nell'immaginare nuovi incentivi, ma pensiamo ad esempio alla previdenza complementare, le detrazioni fiscali sono ferme da quanti anni ormai, sono state addirittura fissate i 5 mila e tanti euro che corrispondevano ai 10 milioni di lire, hanno addirittura una logica ancora di vecchie lire e poi non sono in grado di far fare l'esempio del nonno, cioè se noi potessimo in qualche modo portare a detrazione anche un intervento a favore di un nipote, di un familiare, di un coniuge che questo sarebbe sicuramente uno stimolo in qualche modo a canalizzare il risparmio verso fini previdenziali. Le tasse sui premi sono da noi, pensiamo anche delle polizze sanitarie le più alte in Europa. Insomma c'è sul piano degli incentivi molto da fare, ma si può anche immaginare però a compensazione degli incentivi di fare qualcosa sul versante delle prestazioni immagino per esempio che per rafforzare il secondo pilastro si possa alleggerire il primo di pilastro ponendo un certo tetto alle prestazioni più ricche, perché evidentemente le pensioni d'oro in qualche modo, cioè in una fase in cui tutti stringono la cinghia, certamente quello è un settore in cui forse un qualche intervento che consenta che sono a carico dei giovani dei più deboli, un qualche intervento che lì imponga un freno, soprattutto nella logica invece di aumentare gli incentivi al secondo pilastro, questo potrebbe essere utile. Ma insomma io anzitutto respingo l'idea che quando si parla di collaborazione del Stato e privato del nuovo welfare rispetto al vecchio c'è un ritiro dello Stato. Ecco su questo io credo che si fa spesso ideologia, non è vero che nel passaggio dal vecchio al nuovo welfare noi immaginiamo uno Stato che si ritira per ragioni di crisi fiscale. In realtà lo Stato deve rafforzare la sua presenza facendo tutto quello e direi solo quello che solo lo Stato può fare e lasciare invece al privato tutto ciò di cui il privato può tranquillamente farsi carico. Il ruolo ad esempio di copertura assicurativa in casi di assicurazione di ultima istanza, questo riguarda tutte le esigenze di protezione, non possono che competere allo Stato, si parlava delle calamità naturali, assicurare sotto il Vesuvio non ci sarà mai un privato, si parla delle professioni, esistono alcuni ambiti nella professione medica in cui non ci sarà mai un assicuratore privato perché il mercato per funzionare ha bisogno di alcuni strumenti di regolazione, ha bisogno poi comunque di un regolatore ultimo che si assuma questo compito e questo è lo Stato, quindi sottolineare che il ruolo a protezione, di protettore di ultima istanza, di garanzia di ultima istanza, questo non può e deve farlo perché se non lo fa lo Stato non lo fa nessuno. Ma lo Stato può anche imporre delle regole, io vedo, intendiamoci nella cultura liberale ogni volta che si pone un vincolo, una restrizione, un obbligo è sempre un problema, però è vero che di fronte a una carenza di cultura per accelerare i processi pensiamo alla RCAURO, se non fosse obbligatoria come faremmo a circolare tranquillamente nelle strade e questo in tutti i paesi del mondo, anche quelli di cultura della sicurezza stradale molto più avanzata della nostra, ma credo adesso anche in campo delle professioni c'è un obbligo in qualche modo ad assicurarsi. Tendiamoci, l'obbligo serve a risolvere proprio quei problemi di selezione avversa che altrimenti determinano proprio con soluzioni soltanto di mercato dei problemi dal punto di vista dei prezzi delle prestazioni o delle difficoltà di copertura. Invece quando c'è l'esigenza di una mutualità molto ampia è chiaro che una obbligatorietà, una semiobbligatorietà magari temporanea che serva in qualche modo ad avviare i processi, se ne è parlato per esempio nel caso delle calamità naturali, ma ripeto se ne può parlare, ma nello stesso secondo pilastro si potrebbe immaginare di fronte all'opting out e all'alleggerimento del primo alcune forme in qualche modo che non soltanto incentivano ma rendono in qualche modo obbligatoria una parte almeno di secondo pilastro. Quindi anche questo è un ruolo dello Stato, fissare delle regole che in qualche modo garantiscono una mutualità e uno Stato che ha la massa critica, la dimensione minima e efficiente per poter funzionare. Ma l'altro aspetto, e con questo concludo, importantissimo, si parlava di semplificazione e di flessibilità della regola, la portabilità, questo è un aspetto importante, mi rendo conto che è difficile, però questo è un obiettivo al quale dobbiamo tendere, perché oggi ci troviamo di fronte a carriere interrotte, a carriere flessibili, la persona che comincia in un posto e che finisce nello stesso posto non c'è più e non ci sarà sempre di meno. Quindi dobbiamo noi offrire questa forma di tutela che consenta al lavoratore di portare con sé i benefici del suo risparmio e di quello che ha contribuito al suo risparmio. Potremmo parlare della reversibilità delle scelte di TFR, ci sono tanti meccanismi dal punto di vista della flessibilità delle regole, ma per farla breve io credo che noi siamo partiti nel secondo pilastro con il forte contributo di una cultura delle parti sociali che c'è, resta e deve restare e poi con una logica in qualche modo settoriale e locale. Ma dobbiamo oggi, portandoci appresso ai benefici di questa logica radicata nelle professioni e radicata nel territorio, andare verso un'operazione di previdenza, di welfare integrativo che sia in grado di essere finanziaria, che sia finanza, che faccia finanza e noi dobbiamo portare nella finanza, non soltanto a contorno, ma nella finanza la cultura delle parti sociali, per renderla sostenibile, per renderla orientata alla visione di lungo termine, per orientarla dalla speculazione verso la soluzione dei problemi che interessano la gente e le imprese. Quindi, ripeto, una previdenza, un nuovo welfare di secondo pilastro che sia di finanza e quindi di operatori finanziari e poi di Europa, perché anche lì noi andiamo oramai verso l'Europa, l'architettura istituzionale, si commentava quello che è successo in Italia, ma io credo che seguiamo quello che sta succedendo adesso con le decisioni del Consiglio europeo sull'unione bancaria. Io credo che ci avvicineremo in qualche modo ad un qualche meccanismo di integrazione dei sistemi di protezione a livello europeo che consentano al nostro risparmio, al risparmio dei singoli, di avere quella mutualità, quelle dimensioni di mercato sufficienti ad avere le migliori collocazioni in Europa. Noi abbiamo dei soggetti oggi nel nostro Paese, parlo per la persona che mi sta a fianco e per tanti di voi che sono operatori oramai con massa critica e con capacità soprattutto di professionalità molto forte, che sono degli operatori di finanza, finanziari a livello europeo e che devono far valere questa loro capacità su un piano che non è più soltanto, ripeto, settoriale e locale, ma che deve diventare europeo, nel senso pieno del termine. Grazie. Volevo sentire su questi temi il dottor Antonio Tomasini, Presidente della Commissione Sanità del Senato e soprattutto, io credo che lo Stato sia ritirato su tutti gli ambiti e questo bisogna darlo per scontato e mi sembra strano dire il contrario, come coniugare una riduzione della spesa pubblica e sostanzialmente anche un aiuto alla costituzione di un secondo pilastro che può essere sanitario o al rafforzamento della previdenza integrativa. Perché io quando ho iniziato il mestiere, 26 anni fa, si diceva che si riduce sostanzialmente il pilastro pubblico e aumenta quello privato, però alla fine i contributi previdenziali restano sempre il 33% e non sono mai scesi e a questi uno deve anche metterci l'1-2% del proprio stipendio e deve metterci il TFR. E' difficile questa equazione, ridurre la presenza dello Stato sociale e dare anche la possibilità ai cittadini, però questo Stato sociale costa tanto e su questo costo noi ce lo stiamo sobbarcando tutto. Probabilmente bisognerà forse ridurlo veramente questo apparato. Ma io credo che una risposta Univiovoca è semplice, non è facile da dare, ma credo che il panorama complessivo che ha fatto il professor Garonna prima mi trova assolutamente d'accordo e anzi mi evita di doverlo ripetere. Certo che se uno guarda quanto propone la spending review in particolare su alcuni aspetti si fa prendere da una crisi depressiva. Per esempio si parla di taglio degli ospedali sulla base dei numeri posto letto e vediamo mettere a rischio Costa Masnaga della Lombardia che è un gioiello dal punto di vista della riabilitazione solo perché ha meno di 100 letti. Oppure pensare che la regione Lombardia si organizza diversamente solo con due province rispetto ad altre regioni. Ovviamente non ci si può stare. Io sono un combattente nato e in più sono pure ottimista, sono del segno del sagittario, sono pure tifoso interista quindi molto ottimista. e quindi credo che il cammino molto spesso nella storia rende maturi i tempi di per se stesso. A rispondere a quella domanda solita che si fa in sanità, etica, a chi devo darlo, com'è l'emergenza urgenza, come sono le liste d'attesa, la long term care, infine chi paga, ci si è provati in vari modi, col sistema beverage, il sistema tipicamente statale, o il sistema Bismarck, così si studia e credo anche alla Luca e sui libri di scuola. Noi ci siamo inventati un sistema che non è né l'una né l'altra e che è pure a retto, ma adesso siamo a un dunque, a un dunque in cui dobbiamo prendere una strada. Beh c'è una frase che oggi, io non sono tutt'altro che un conformista che va dietro gli slogan, ma che sembra che nel mondo in vada molto di moda, do more with less. Ce l'ha detto Kofi Annan, non per la sanità, dovete fare di più con meno. E come si fa? Semplice, diminuire i rischi ed evitare le morti evitabili. E questo comporta delle responsabilità individuali e delle responsabilità collettive. E in questo c'è già una risposta molto precisa, perché l'area in cui ci dobbiamo muovere è quella della prevenzione, è quella delle cure, se scegliendo il meglio, è quella dell'organizzazione. Allora parlando dell'organizzazione, per esempio, che è il tema che può essere più vicino alla politica, questo contrasto pubblico e privato deve chiudersi domani. Cioè sono due forze che non possono che essere sinergiche se ben utilizzate. Quello di una burocrazia ossessiva che vede solo comparti stagni deve essere abbandonato. Se noi non articoliamo l'immagramento degli ospedali per acuti con il sistema Abespocca, con un territorio che si integra, siamo morti. Se non troviamo un DRG di confluenza sociosanitaria, continueremo quando la gente non sta bene a metterla in un posto letto a 1000 euro al giorno, piuttosto che metterla in un pit stop, in un sistema che costa 300 euro al giorno, magari organizzato dal privato. E lasciatemi dire, perché io ci credo veramente, non possiamo continuare con la legge del tutto e del nulla. Cioè questo non esiste. Allora io in maniera standard so che uno su tre maturerà una cataratta e gli cambio il cristallino con un cristallino da 88 euro. Però so che dopo cinque anni lo dovrò cambiare. E se invece ne metto uno a 500 euro, duro 15 anni. Lo vogliamo dire ai cittadini? Che scelta faranno i cittadini? E il problema si ripropone sulla valvola cardiaca, sullo stent, sulla coronagrografia multislida. Cioè entriamo nel terreno. Come si sceglie e sulla base di quale esigenza personale voglio scegliere. Allora abbiamo poco, lo Stato ci deve mettere del suo, deve indirizzare. Abbiamo detto anche in porno. Oh ma abbiamo già oggi 10 milioni di cittadini che pagano queste cose. Pagano di queste cose e almeno il 40% durante un anno ha uno o due contribuzioni solamente privato per avere di più. Noi continuiamo a dire che il nostro servizio sanitario nazionale è il primo al mondo. Oddio 10 anni fa era così. Oddio se andiamo sotto certi parametri e vediamo quanto si dà di più così è così. Però se prendiamo degli altri parametri più attinenti al criterio del giorno d'oggi. a quello che serve ad una persona che è entrata in quel meccanismo del lavoro che sentivo. Non più continuativo nello stesso posto con quelle variabilità e tutto. O è cambiato il mondo, non siamo più primi. Siamo 14esimi, 15esimi in Europa. E questo fa prevedere che quella spessa pubblica sia in diminuzione nel futuro. Che la disponibilità di LEA sia minore nel futuro. I piani di rientro nelle regioni rendono chiaramente meno prestazioni. E quindi oltretutto non vi dico la bomba. Agenas mette fuori gli esiti. Per cui essere curato da un intervento di cardiochirurgia nella regione Lombardia dal 5% di rischio. In un'altra regione il 30% di rischio. Quando voi vedete di abitare in quella regione, come la pensate? Cosa pensate di fare? Questo è il tema. E allora è evidente che questa fuga verso le regioni o attraverso l'estero dobbiamo poterla recuperare riconoscendo quell'intervento, riconoscendo quella necessità. Noi, io almeno sono vissuto in un'epoca molto fortunata. Perché ho visto aumentare quell'aspettativa di vita. Io sono in corso, mi sento giovanissimo. Pur essendo ormai piuttosto, diciamo avanti. Abbiamo saputo dare qualità da quella vita? Certo che sì. Sì, però abbiamo un tema, l'autosufficienza, perché sennò sarà terribile. E dobbiamo perdere quell'idea che questo è un tema che ci è dovuto. E magari non saperne apprezzare neanche il valore di quello che ci è stato dato fino adesso. E ripreso a piene mani, c'è ancora chi riesce a fare sette ecografie o sette piuttosto tomografie e altro, girando i posti. E questo ovviamente non è più possibile. Però, d'altro canto, sentivo prima parlare figli e nipoti, noi abbiamo il dovere di non deflettere proprio per i nostri figli. E allora quei tagli sono vissuti e devono essere vissuti come un'iniquità totale. E dobbiamo trovare invece delle risorse per l'equità. Su questo il percorso. Inderogabile è quello delle integrative. Puoi bene metterli in maniera che siano insieme, che siano flessibili, che lo Stato in parte li imponga, in parte li riconosca. I percorsi possono essere tanti. Io mi prendo a schiaffi con Ministri dell'Economia da almeno dieci anni. Se venite anche voi e ci mettiamo accordo, schiaffeggiamo anche meglio. Il tema è quello di non perdere un patrimonio prezioso che poi non è l'aspettativa di vita. È la vita stessa, no? E secondo me per vincere dobbiamo attuare una regoletta semplice e magari sulla quale non sarete d'accordo. Fare meno. E dice come fare meglio? Ma perché dobbiamo fare meglio? E dobbiamo fare insieme. E soprattutto crederci, crederci molto. Allora, nell'ambito del fare sentiamo l'esperienza del FASI con il gestione e sostegno al reddito che mi sembra una notizia positiva e va in questa ottica. Grazie. Devo dire che quello che ho sentito già dall'amico Caronna e dal senatore Don Massini sono importanti perché anche proprio in funzione di questo che sta succedendo nella società che c'è stato l'intuito di Confindustria e Federmanager di mettere all'interno del FASI la GSR che è gestione e sostegno al reddito. Che cos'è la gestione e sostegno al reddito? Beh, diciamo, al FASI diciamo ecco, io spero sempre di non incontrare mai nessuno, no? Però c'è la parte sanitaria quando uno ha bisogno con i propri familiari e quando perde il posto di lavoro. Perciò sotto lo stesso cappello, sotto lo stesso ente bilaterale si sono messe queste due grandi funzioni. E questo l'abbiamo fatto perché? Perché penso che anche con questo può essere anche un servizio quando uno perde il posto di lavoro. Non solo perché adesso c'è tutta la fase che nessuno ricontinua nel proprio posto di lavoro ma addirittura si perde con tutte queste fusioni, con tutto quello che sta succedendo. Cioè socialmente abbiamo pensato di inserirci in questo campo e penso che dall'altra parte sotto un profilo, questo è un aiuto anche per esempio per il Previndai, per la Previdenza, nel senso non è che la gente va subito in pensione ma può avere anche da noi un sostegno al reddito per un periodo. L'abbiamo fatta ragionando perché oggi abbiamo anche dei casi sotto i 50 anni che perdono i posti di lavoro e non pochi e sopra i 50 anni. Abbiamo fatto all'interno anche di questo un servizio di outplacement cioè di aiutarci con altre società. Abbiamo visto che le persone già con 6,5 mesi riescono a ricollocarsi perché quando la gente perde il posto di lavoro pensa sempre di poterlo ritrovare invece dopo si accorge che dopo qualche mese fuori dall'azienda non è più la stessa cosa e diventa difficile. Cioè abbiamo anche questo compito sociale. Mi riallaccio proprio a questo perché con questo abbiamo fatto delle convenzioni importanti con delle società ma come le stiamo facendo anche, come diceva il senatore, anche nell'aspetto sanitario. Noi al sistema anche nazionale e anche al sistema stiamo facendo delle convenzioni per arrivare all'eccellenza, cioè l'eccellenza vera che ci deve stare nelle convenzioni che noi facciamo. Perché? Perché delle strutture ci stanno indicando quello che è il rapporto con il privato, ci stanno mandando delle segnalazioni, noi con la convenzione diretta con il FASI siamo arrivati a 2.000 strutture convenzionate dove abbiamo stabilito una tariffa insieme. Significa controllare la spesa, significa essere sicuri e devo dire anche senza tanti voli pindarici, senza tanti sacrifici, controlliamo e tutto viene fatturato ed è tutto regolare. Perciò anche con un sistema molto semplice si è messo tutto a regime e da lì stiamo avendo dei sgravi importantissimi che possiamo, da tutti questi risparmi, poi ricorlocarli per esempio nella prevenzione, nella stessa prevenzione. Stiamo vedendo, per esempio stiamo facendo il cancro del cavo orale dove stiamo rilevando dei dati con un programma informatico che sono importanti anche per il Ministero, perciò dare dei dati pure importanti su questo, cioè di essere utili nei vari aspetti a 360 gradi. e stiamo anche attenti a tutto quello che succede. Io esco da un'assemblea, devo dire, ho fatto i complimenti all'amico Caronna una settimana fa, che sono pieno di appunti di tutto quello che hanno tirato fuori le assicurazioni, che io onestamente non mi rimetto a studiare, perciò ne prendo atto, mi faccio mandare qualche documento. E ci rilavoriamo, perciò sia per il pezzo della gestione sostegna al reddito, sia per il pezzo della prevenzione, sia per il pezzo delle convenzioni dirette, significa anche comunque dare lavoro, avere rapporti, però controllare la spesa, lavorare insieme sulla spesa, questo porta dei risparmi, ma porta comunque a questi risparmi che rinvestiamo in cose importanti che poi vanno a utilizzo del Servizio Sanitario Nazionale. Grazie. Grazie. Allora, vi ringrazio tutti gli ospi per aver seguito questo nostro dibattito. Grazie. Grazie.